Eccomi qua, sono Marto Fello, amici e amici di Pescara e zone limitrofe, vi aspetto il 18 luglio alle 21.30 all'arena del porto turistico di Pescara, un grande spettacolo se la panchina parlasse di Pierfrancesco Pincitori, sono io, c'è Perotta, c'è Morgana, c'è Alessandro, c'è Valentina e chi più ne ha più ne metta, venite, 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 arena, all'arena, all'ampideatrino che sta lì al porto turistico di Pescara, ciao, di più, Ninzò. Domenica 18 luglio alle 21.30, arena del porto turistico di Pescara, sarà in scena, se la panchina parlasse, di Pierfrancesco Pincitore, cioè di me, con Marto Fello, Manuela Villa, Federico Perrotta, Morgana Giovannetti, Valentina Olla, Alessandro Tirocchi, magari vi divertite e magari vi fate pure due risate, ci vediamo.